Ciao amici, eccoci con un nuovo video in compagnia di... Ludovico Nello scorso video abbiamo visto come Ludovico ha imparato a fare le addizioni in... Colonna Con i... Bam E oggi vedremo come Ludovico ha imparato a fare le addizioni in colonna con il... Cambio Benissimo Per chi non lo avesse già visto, il video delle addizioni in colonna lo trovate linkato in descrizione Ma allora, Ludovico, com'è imparato a fare le addizioni in colonna con il cambio? Sempre con i bam Ah... Iniziamo, Ludovico? Sì Bene, per prima cosa prendiamo il nostro solito tappetino rosso e... Blu E poi prendiamo le decine e le... Unità Adesso, Ludovico, svolgiamo questa operazione 24 più 37 Iniziamo dalle... Unità Quindi prendiamo 4... Unità Vai Bene E poi? Quante decine? Due Ottimo E le mettiamo in alto E le mettiamo in alto Questo è il simbolo? Più Bene Adesso proseguiamo con il numero... 37 7 Prendiamo 7... Cubetti Prendiamo quindi 7 cubetti e li mettiamo... 4 Ora prendiamo... Quante decine? 3 Vai Mettiamo le decine Che dobbiamo fare, Ludovico? Tutti giù per terra Ah Conti? Sì E ora... Contiamo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 E 10 E uno è rimasto... Qua Qui Perché uno è rimasto? Qui abbiamo formato 10 Che è una... Decina E adesso dobbiamo fare appunto il... Cambio Ludo ma come facciamo a fare il cambio? Adesso ce ne mostro Basta prendere una decina E la sostituiamo... Ai cubetti Die cubetti Via Quindi questo cubetto solo soletto lo lasciamo sotto le... Unità Oh... E la decina cosa fa? Va... Prendere l'ascensore L'ascensore Dove va? Su Le decine Ah... Va tra le decine E la lasciamo qui su Bene Adesso che dobbiamo fare? Tutti giù per terra Quindi prendiamo tutte le decine Via E le contiamo Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quindi quale sarà il risultato? 61 Wow! Ecco Ludo Adesso riportiamo la nostra operazione in colonna Abbiamo messo 4 Unità E 2 Decine Adesso riportiamo il 37 E scriviamo 7 Unità Unità E 3 Decine Decine 1 Che fa 3 Giusto? Più 3 Quanto abbiamo detto che faceva? 6 E fa 60 E quindi il risultato è 61 Ciao a tutti amici! Ciao amici!